Si mette a contavino e ti ingroppa, ti fa provare la foto sul balone, adesso l'alziamo. Non so, non credo che sia grande, manco vado a guardare, ci dormivo sopra. La foto sul balone, con la bici però, devi fare un giro, ti è passata giù la polvere? Non so, ti è passata giù la polvere, non so, ti fai una foto sul balone, lo sballona con la bici in mano. lascialo un quarto da là così anche con una mano no 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 mi parla che mi sto girando come la dai